Ai costruttori napoletani piace il piano per lo sviluppo di Bagnoli che sta preparando il Comune di Napoli, ma allo stesso tempo sono d'accordo sulla nomina di un commissario che possa gestire opere e progetti per il rilancio dell'area ovest di Napoli, così come indicato dal Governo e osteggiato dal Sindaco dei Magistris e la sua giunta. E' quanto emerso questa mattina durante il confronto tra i rappresentanti dei costruttori napoletani dell'ACEN e gli assessori all'urbanistica del Comune di Napoli, Carmine Episcopo e alla protezione civile della Regione Campania, Edoardo Cosenza. Per quest'ultimo però la nomina del commissario di Bagnoli sembra per ora solo uno spot del presidente Matteo Renzi. C'è un grande progetto di cui tra l'altro io ho la responsabilità che è fermo, quindi noi non diciamo chi deve essere come deve essere e che si faccia presto perché il commissario ha senso per un'operazione commissariale, cioè un'operazione che avviene rapidamente e quindi diciamo invece questo è evidentemente un parto, ci vogliono un nome di mezzo. E se fosse il sindaco voi sareste d'accordo? Ma no, va bene chiunque che faccia bene per Bagnoli e per la città, quindi perché no va benissimo, diciamo l'importante è che si vada avanti e che sia un soggetto tra commissario e ente attuatore, un soggetto che può ricevere i fondi europei. Insomma piano salva Italia del governo permettendo il futuro di Bagnoli e dell'area flegrea potrebbe rappresentare la piattaforma di lancio per l'economia del territorio e il Comune sta battendo tutte le strade compreso il confronto con i cittadini. La bonifica ambientale come auspica l'assessore Piscopo resta quindi la priorità. È uno spazio che si apre ora per tutta la città, per la collaborazione di tutti quelli che saranno interessati a portare avanti un piano, ma un piano che dimostra che la città non vuole fermarsi di fronte anche al decreto sblocca Italia, di fronte a uno sguardo unilaterale, una proposta unilaterale del governo. La città non rinuncia in questo modo e l'attenzione che c'è oggi ma come in tutte le assemblee che stiamo avendo, come in tutti gli incontri con la città che stiamo avendo, la città dimostra di voler andare avanti. Francesco Tuccillo, presidente dell'ACEN, spiega i nostri microfoni. Senza una legge che consente l'attuazione dell'intero piano Bagnoli da parte di un soggetto unitario al quale vengono trasferite per legge la proprietà e la titolarità delle aree, non ci potrà essere la gestione unitaria del progetto Bagnoli perché ci si troverebbe di fronte alla vendita delle aree da parte dei curatori e pertanto all'operazione Bagnoli frazionata in molteplici aree e numerose aree senza la gestione unitaria del progetto. Grazie.